No, diciamo che stiamo bene per quello che si è visto nell'alimento, è una squadra che ha lavorato molto bene in questo periodo, con qualche defezione chiaramente in questo momento, però chi entrerà in campo domani e chi farà parte del gruppo che si appresterà a vivere questa prima giornata di campionato, darà il massimo di quello che può dare in questo momento qua, con 20 giorni nella mente nelle gambe e con qualche problematica proprio legato anche al Covid, qualche assenza sempre, problematiche fisiche.